Buongiorno a tutti, sono particolarmente contento di aprire oggi sia pure da Roma e non sul luogo, sul posto come invece avrei voluto, ma purtroppo sono stato trattenuto da un impegno improvviso presso il Ministero. Dicevo sono particolarmente lieto di aprire oggi e di rivolgere un indirizzo di saluto per questo workshop sul bracconaggio, perché è un'iniziativa che al di là del tema trattato testimonia e rappresenta un segno tangibile dell'ormai lunga e consolidata collaborazione in questo campo, come in altri peraltro, che si è instaurata tra l'Istituto e il Ministero dell'Ambiente, in particolare sui temi della conservazione della biodiversità e della tutela degli uccelli. È una collaborazione che non nasce oggi ma parte da lontano. Ancor prima che Ispra nascesse nel 2008, l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica ha lavorato per anni in stretta sinergia con il Ministero, dando vita a numerose iniziative, tra le quali voglio ricordare la creazione di una collana editoriale, i cosiddetti quaderni di conservazione della natura, al cui interno sono stati pubblicati piani di azione per la conservazione delle specie minacciate, linee guida per la gestione di specie problematiche e altri documenti tecnici di notevole interesse scientifico e applicativo. Come Ispra abbiamo proseguito e rafforzato questa collaborazione anche promuovendo la formalizzazione di convenzioni finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi. Tra le attività più significative svolte negli ultimi anni voglio e mi piace ricordare la rendicontazione dello Stato di conservazione degli uccelli italiani datata a 2013, in attuazione da quanto è previsto dall'articolo 12 della Direttiva 147 del 2009, la cosiddetta Direttiva Uccelli. E come molti di voi sapranno, il rendiconto è stato pubblicato nella collana Ispra dei Rapporti e oggi possiamo essere orgogliosi di dire che rappresenta un punto di riferimento importante, direi imprescindibile, per quanti si occupano di conservazione della vifano all'interno delle istituzioni, delle associazioni o come liberi professionisti. Più in generale come istituto ci occupiamo dell'attività di reporting che viene richiesta con cadenza periodica per ottemperare agli obblighi che derivano dalle direttive europee o dagli accordi e da convenzioni internazionali che rientrano nell'ambito UNEP, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, e che sono espressamente dedicati a questo tema della vifauna. Tra questi accordi multilaterali meritano una menzione particolare la Convenzione di Bonn sulle specie migratrici e la Convenzione di Berna per la salvaguardia della vita selvatica in Europa e l'Accordo a Evoa per la conservazione degli uccelli acquatici. Nel contesto internazionale, ISPRA, attraverso i colleghi che si occupano specificatamente di questa materia, garantisce la partecipazione del Paese alle iniziative che vengono assunte per la tutela della biodiversità ed in particolare degli uccelli migratori. Tra queste attività voglio ricordare il ruolo avuto da ISPRA nel 2014 nell'ambito del semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea, quando i colleghi che afferiscono all'area vifauna migratrice hanno svolto il ruolo delicato e cruciale di rappresentanza dell'Unione Europea in occasione della undicesima conferenza delle parti della Convenzione di Bonn. Si è trattato quell'anno di una COP assolutamente centrale ed importante, nel corso della quale sono stati adottati numerose risoluzioni di grande significato, fra le quali voglio ricordare quella destinata a contrastare l'uccisione e la cattura illegale degli uccelli nella regione mediterranea. Inoltre, come Istituto, siamo tenuti ad acquisire conoscenze su temi direttamente attinenti alla conservazione. Voglio spendere qualche parola sulla centralità del tema della conoscenza dei problemi, che è una premessa indispensabile per mettere in atto politiche di conservazioni efficaci e mirate. In questo ambito i miei colleghi sono attivi nel monitoraggio e nello studio di popolazioni minacciate e vulnerabili, come è il caso di molti uccelli acquatici che nidificano proprio nell'area del Delta del Po, una delle zone umide di particolare rilevanza e importanza nel contesto mediterraneo. L'attività viene condotta dai colleghi con spirito di servizio, ma anche con grande passione e con modalità diverse, attraverso il monitoraggio delle colonie nidificanti, la ricerca dei fattori che limitano ed agiscono sul successo riproduttivo delle specie, lo studio del comportamento migratorio, realizzato mediante la marcatura individuale con anelli colorati e anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie di telerilevamento. E non sono mancati approfondimenti su temi specifici, come quello relativo all'uso del piombo nelle munizioni da caccia, una problematica che ha portato all'istituzione di un tavolo tecnico in cui vedono la partecipazione quattro ministeri e l'Istituto Superiore di Sanità e che il mio istituto coordina. E per finire questa rapida e seppure incompleta carrellata di attività condotte da Ispra per la conservazione della mifauna vorrei spendere qualche parola sul tema del workshop di oggi, cioè sul contrasto del bracconaggio. Come purtroppo è noto l'uccisione, la cattura e il commercio illegale di uccelli rappresentano un motivo di forte preoccupazione per la conservazione delle popolazioni di molte specie minacciate a livello globale. Come ho ricordato in precedenza, tale preoccupazione è molto avvertita nell'ambito del bacino del Mediterraneo, dove transitano milioni di uccelli durante le migrazioni. Per questo già da alcuni anni la Convenzione di Berne e la Convenzione di Bonn stanno promuovendo e intensificando attività per ridurre questa causa di mortalità ingiustificata e, lo voglio dire, nella gran parte dei casi, illecita. Tra queste azioni spicca la redazione di un piano d'azione internazionale denominato Piano d'azione di Tunisi. L'Italia, il nostro Paese purtroppo, è uno di quei Paesi europei dove viene compiuto un numero elevatissimo di atti, potremmo definirli illeciti, contro gli uccelli selvatici. Per questo motivo la Commissione europea ha avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di infrazione richiamando la necessità che dedichiamo insieme maggiore attenzione nei confronti di questa problematica. In effetti in Italia i reati contro la vifauna si manifestano in una molteplicità di forme diverse e, permettetemi di dire, che a volte la realtà supera la fantasia. In maniera semplificata posso dire che andiamo dall'uccisione di passeriformi con archetti nelle valli prealpine, l'abbattimento di rapaci in migrazione sullo stretto di Messina, la cattura di tordi destinati ad essere utilizzati come ricami vivi, l'uccisione di uccelli acquatici nelle zone umide del Casertano durante i mesi primaverili. Solo per citare alcune di queste condotte illecite. Alcune di queste forme di bracconaggio, peraltro, sono molto difficili da contrastare in quanto profondamente radicate nella vita, nella realtà, nelle tradizioni locali. Il Ministero dell'Ambiente ha chiesto all'Istituto di assumere iniziative contro il bracconaggio in attuazione del Piano di Sunisi. Voglio chiarire che l'Istituto non ha, come penso molti di voi hanno ben noto, un ruolo per intraprendere azioni di contrasto diretto nei confronti di chi commette reati o illeciti. Ma tuttavia possiamo e vogliamo svolgere un'azione di indirizzo e di raccordo tra il Ministero e quanti in Italia si occupano della repressione e della prevenzione di queste attività illegali, in primo luogo il Corpo Forestale dello Stato, che voglio ringraziare per la dedizione e per l'opera prestata in questi anni. È un'azione di indirizzo che può essere esercitata mettendo a disposizione il nostro patrimonio di esperienza e di conoscenza per delineare nel modo più chiaro possibile i contorni del fenomeno e definire, indicandole chiaramente, le priorità di intervento. È un'azione di raccordo che può essere svolta favorendo, tra l'altro, il dialogo e la collaborazione tra i diversi soggetti impegnati nel contrasto al balconaggio, spesso attivi in ambiti diversi e talvolta anche su fronti contrapposti, sia pure legittimamente, come nel caso di Chiopra nelle associazioni ambientaliste, ovvero in quelle venatori. Il workshop di oggi rappresenta quindi una tappa fondamentale in questo percorso, un momento di confronto per arrivare alla definizione di una strategia nazionale comune. Grazie alla vostra esperienza e alla vostra competenza, nelle giornate di oggi e di domani cercheremo di definire insieme le azioni necessarie per dare un impulso forte alla lotta al bracconaggio e per definire, come dicevo, le priorità che dovranno essere perseguite nei prossimi anni. E desidero quindi ringraziarvi per aver accolto l'invito a partecipare a questa iniziativa e per il contributo che apporterete alla discussione. Vi ringrazio sin d'ora per quanto farete dopo questo workshop per dare concreta attuazione ai risultati del lavoro di questi due giorni. Voglio rivolgere anche un sentito ringraziamento al Parco regionale del Delta del Poveneto per la piena disponibilità offerta dal primo momento per l'organizzazione del workshop. Ci hanno messo a disposizione i colleghi del Parco la struttura che oggi vi ospita e hanno anche organizzato dei momenti conviviali che, sono sicuro, favoriranno anche lo svolgimento dei workshop in questi due giorni. Infine, permettetemi di rivolgere un ringraziamento sentito, non formale, né di rito, sia al Ministero dell'Ambiente, nelle persone del Sottosegretario De Gani e della collega dottoressa Giarratano, Direttore Generale della Conservazione Natura, per la fiducia riposta nel nostro Istituto in questi anni. Noi siamo orgogliosi come Istituto, insieme ai colleghi che se ne occupano direttamente, di poter svolgere un ruolo di supporto tecnico per le tematiche di conservazione della biodiversità e, in particolare, per la tutela degli uccelli migratori. Io mi auguro che questa attiva collaborazione possa proseguire nel tempo, possa portare frutti concreti a beneficio di tutti e, in primo luogo, a beneficio della conservazione della biodiversità che rappresenta forse il patrimonio più importante che, come Paese, abbiamo il dovere di preservare. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon lavoro.